Buonasera e bentornati in diretta cari telespettatori, come ormai ben sapete ogni lunedì sera FanoTV ospita un sindaco della provincia di Pesero Urbino e non solo e questa sera è qua con noi Antonio Sebastianelli, sindaco di Terre Roveresche. Buonasera e bentornato nei nostri studi. Buonasera, buonasera Sivona, buonasera la regia a tutti quelli che ci seguono, che vi seguono su FanoTV. E sono già arrivati tanti messaggi però vorrei ricordare a tutti i telespettatori i numeri di telefono per intervenire in diretta. 0721 86 14 33 è il numero di telefono con il quale potrete parlare direttamente con il sindaco oppure 338 49 68 250 qui anche su whatsapp potete inviarci dei messaggi. Partiamo come sempre facendo il punto della situazione sul covid, la regione Marche per fortuna è rimasta nella zona arancione. Com'è l'andamento dei contagi nel vostro comune? All'andamento si mantiene tutto sommato stabile anche rispetto alla settimana scorsa dalla mia diretta che faccio tutti i venerdì dove do un po' il punto della situazione perché chiaramente è un argomento che sta molto a cuore a tutti noi e la cittadinanza. E quindi più o meno siamo un po' in diminuzione rispetto a venerdì e siamo sui 35 36 persone in isolamento fiduciario. Di queste 27 sono positive circa. Adesso persona più persona meno. Però questo significa che anche se siamo arancioni, anche se il dato è in miglioramento, dobbiamo sempre usare un minimo di buonsenso e quindi continuare con le solite precauzioni che ormai tutti conosciamo. La mascherina, igienizziamo le mani eccetera. E il vaccino? Il vaccino speriamo che ci sia una vaccinazione veramente di massa perché poi se non c'è il numero di vaccini di dosi e questo non può avvenire. Quindi anche se ci prodighiamo tutti cerchiamo di darci da fare anche il personale medico che ringrazio, infermieri, medici, tutti quelli che insomma oggi anche i volontari permettono di poterci vaccinare in sicurezza. Si sente la mancanza di un punto vaccinale nel vostro territorio? Sarebbe opportuno, adesso fortunatamente chi sta a terre roveresche, diciamo anche la parte San Giorgio Piagge, ha vicino il Codma, quindi grossi problemi non ci sono. Però sarebbe opportuno nell'entroterra perché quello che forse è sfuggito un po' è che uno da una parte abbiamo tante persone anziane che fanno anche difficoltà a spostarsi. E dall'altro rispetto alle grandi città non è che abbiamo un servizio di trasporto pubblico locale così efficiente, quindi è difficile spostarsi. Infatti noi abbiamo fatto una richiesta in questo senso alla Regione Marche perché il Comune mette a disposizione le strutture, abbiamo l'aiuto dei volontari e abbiamo anche l'aiuto dei medici di medicina generale e anche dei farmacisti per poter aprire un punto vaccinale nel nostro territorio. E sabato scorso avete attivato anche uno sportello di ascolto proprio perché stiamo vivendo un momento molto difficile. Esatto, è un progetto che è stato lanciato dalla nostra Commissione Scuola e Pubblica Istruzione. Ringrazio il Presidente Angela Gabbianelli, Alessandra Carnaroli, l'Assessore Sbrozzi e tutta la Giunta perché comunque si sono adoperati per attivare questo sportello e quindi sia in modalità tradizionale ma anche in modalità a distanza, quindi utilizzando i canali che conosciamo, ci può essere e c'è un momento di ascolto insieme a personale incaricato, specializzato, in questo caso è una psicologa psicoterapeutica che è la dottoressa Bonazza che già collabora con il nostro istituto comprensivo, quindi c'è un momento anche per superare perché effettivamente dopo tanto tempo il Covid si fa sentire anche sulla parte psicologica e sociale della popolazione. Vorrei dare anche gli orari mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 e poi il sabato dalle 15.30 alle 18.30. Non abbiate timore perché avete poi la possibilità di confrontarvi con degli esperti, dei professionisti che sono a vostra disposizione. Abbiamo subito qualcuno al telefono che vuole parlare con lei. Buonasera. Buonasera, ci sente? Sì, sì, buonasera. Il sindaco è qua che l'ascolta. Buonasera. Io volevo fare una domanda al sindaco, le volevo chiedere se il punto in fondo della Cerbara, quello sul Metauro, è competenza vostra? No, è competenza sfortunatamente o fortunatamente, dipende dai punti di vista, ma è della provincia. Ok, secondo me lo percorro tutti i giorni e spesso mi fermo anche sotto perché sono un cercatore di asparagi, è sotto diciamo che ha una condizione poco poco rassicurante. Quindi non so se lei, insieme magari al sindaco di Coglio al Metauro intorno, si può fare una solicitazione alla provincia di comunque andarlo a controllare e vedere se ha bisogno di essere attenzionato, diciamo. Va bene, grazie della segnalazione, lo faremo subito domattina, lo segnaleremo, io so già che la provincia in altri contesti si è già mossa, probabilmente è opportuno che si muova e abbia attenzione anche su questo ponte, grazie. Altre domande per lei, cominciamo a leggere un po' di messaggi. Il matatoio di Schiepe continua ancora a demanare cattivi odori, ci sono delle novità? Le novità sono quelle le ultime che conosciamo, avete letto anche sulla stampa, di questo bando che hanno partecipato il gestore del matatoio, quindi alcuni lavori verranno fatti, tra cui alcuni lavori dovrebbero coinvolgere anche il depuratore, però come probabilmente avete già letto sui giornali, lì servono ben altre cifre molto importanti. Quel matatoio lo ripeto perché ha una storia un po' particolare, perché è nel territorio di Terre Roveresche, perché era nell'ex comune di Orciano, però di fatto la proprietà non è la nostra, perché è in parte col comune di Fano e di Colli al Metauro. Tempo fa, quando ancora c'era Stefano Guzzi sindaco di Colli al Metauro, adesso non l'è più, si è cercato di avviare un discorso, adesso solleciterò per riprendere in mano questa questione, perché l'idea era quella che anche Terre Roveresche oggi potesse entrare in parte di questa proprietà, perché è più facile, poi poterà anche indirizzare verso interventi più drastici e importanti. Dovremmo avere qualcun altro al telefono, ma prima vorrei parlare con lei dell'illuminazione, visto che le vogliono chiedere anche quando avverrà il completamento dell'illuminazione su via Schieppe, dopo la rotatoria zona industriale in direzione Superstrada. Quindi ci affacciamo un attimo su questo argomento, visto che state accendendo un po'. Sì, stiamo facendo dei lavori, in alcuni parti dei municipi, Barchi, Orciano e in maniera minore anche Piaggia erano necessari, questi lavori di efficientamento abbiamo iniziato e stiamo portando avanti. In alcuni tratti ci siamo un po' rallentati, complice il Covid eccetera, però adesso con complice anche la buona stagione dovremo accelerare, perché a Schieppe, per rispondere alla domanda del nostro ascoltatore, abbiamo già installato il quadro elettrico, quindi io spero nell'arco del mese di maggio di terminare quel tratto dalla rotatoria fino a vicino all'uscita della superstrada. Le chiedono anche se puoi illustrare il progetto che hanno letto in un articolo recente di Un Quotidiano Locale, della progressiva sostituzione della pubblica illuminazione di terra roveresca appunto con la tecnologia LED. Vorrei chiedere quali sono gli interventi previsti, quali vie, anche interessate in uno specifico se è prevista anche l'inclusione di tutta via De Gasperi di Orciano. Tutte le vie del comune verranno toccate, quindi a Stralci, come dicevo abbiamo iniziato a Barchi perché era... Dovremmo avere anche delle immagini. Sì, ci sono anche delle immagini, proviamo in regia, ovviamente sono proprio quelle di Barchi dove abbiamo iniziato, abbiamo iniziato lì perché alcuni tratti, questa invece è la provinciale che collega San Costanzo con Piagge, Terra Roveresca, siamo in via San Filippo, queste Barchi, la parte della scalinata, la Portanova, questo qui siamo sempre a Piaggio, Cerbara adesso, vado a memoria, no questa è Cerbara, Piagge, dicevo tutto il comune verrà toccato in più Stralci, quindi adesso a mano a mano che andiamo avanti metteremo insomma al corrente la popolazione della cittadinanza, anche perché in alcuni tratti è sufficiente cambiare il corpo illuminante, in altri dobbiamo cambiare proprio tutto, come qui a Barchi, rifare completamente la linea perché è molto vecchia, cambiare i pali, cambiare i plinti per dare sicurezza. Ok, credo che abbiamo un'altra telefonata per lei, sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Pronto? Ci siamo, prego qua il sindaco che l'ascolta. Ciao Antonio, sono Remo da Barchi. Ciao Remo, tu ci segui sempre, infatti aspettavo la tua chiamata questa sera. Io, ridi? No, aspettavo la tua chiamata ormai. Fai ridere anche Simona. Ecco, sorridiamo. Come primo punto ti volevo proprio chiedere della luce, tu hai detto abbiamo già fatto Barchi, invece per dire il castello e via Roma non è stato ancora toccato. Beh certo, perché dobbiamo farlo, esatto. Il castello sarà un progetto a parte perché il centro storico richiede un'attenzione. Via Roma sono corpi illuminanti diversi rispetto a quelli alti 8 metri, quindi anche lì dobbiamo cambiarli. Sì, abbiamo iniziato, non è che abbiamo terminato. Ok, no, perché via Roma specialmente è proprio pericoloso, che di notte non si vede niente, quindi... Ecco, poi ti volevo chiedere, prima hai fatto vedere, avete fatto vedere la rampa della Porta Nova? Sì. Lì sarebbe bene accendere anche i due lampioni che ci sono. Allora, se accendiamo i due lampioni possiamo anche farlo, però è una luce diversa, poi non vorrei... dobbiamo ancora ritoccare qualcosa, eh? No, comunque c'è una cosa che dovreste voi con qualche tecnico venire a vedere magari di notte come funziona, perché per dire c'è nell'angolo della farmacia c'è un faro che dovrebbe illuminare il parcheggino, invece è come un puntatore di laser che non fa nulla. Ne metteremo un altro, Remo. Certo, ne metteremo un altro, Remo, grazie del suggerimento, lo so. Allora, ecco, un'ultimissima cosa. Velocissimo. E tu questa te l'aspettavi di sicuro, che praticamente, quando è che porti la sede dei vigili? Presto, terminiamo un paio di lavoretti dentro il comune e poi portiamo i vigili, per fine maggio dovremo esserci. Ho capito. Una promessa è promessa. Ecco, comunque la sede... Sì, sì, i vigili vengono a Barchi, te l'ho detto tante volte. No, perché tu sai, io te l'ho detto più volte, perché ci sentiamo un po' saccheggiati, eh? Eh, non dire così che non è vero, abbiamo riaperto anche l'ufficio. Però vedo che, da come capisco, Remo, lei ha occasione spesso di parlare con il sindaco. Hanno ripristinato anche l'ufficio postale. Grazie intanto per queste segnalazioni. Buona serata, arrivederci. Allora, ci stanno arrivando tanti messaggi. Prima di leggere, vi ricordo di contattare il numero del fisso se volete parlare direttamente con il sindaco. Invece il numero di cellulari è dedicato ai messaggi. Tanti ci chiedono informazioni per la piscina comunale del Bocciodromo di Pievecannetti. Quindi ne leggo uno per riassumere un po' tutti gli altri. Vedendo che i lavori sono ancora sospesi, abbiamo paura che la stagione anche salterà. Sarebbe una cosa negativa per la popolazione. Allora, guardiamo insieme le immagini. Sì. E cerchiamo di capire anche qual è l'andamento dei lavori. L'andamento abbiamo demolito gli spogliatoi. Adesso è la prima fase da fare perché lì verrà fatto tutto nuovo. Domani, se non sbaglio, dovrebbero ripartire, compresi lo spostamento. Quindi poi la prima fase sarà la ricostruzione degli spogliatoi. E quindi questo significa che quando ci sarà la bella stagione, sempre Covid permettendo, eccetera, perché ancora siamo in una situazione un po' particolare, potremmo riusare tranquillamente la piscina. Perché poi l'idea è quella di far sì che i lavori della copertura non intralcino la stagione estiva. Insomma, ecco, i soliti due mesi nel quale utilizziamo la piscina. Quindi ecco, l'idea è un po' questa. Anche perché comunque sia già di solito nel corso dell'anno gli spogliatoi era da tempo che non si utilizzavano. E quindi non dovrebbero creare problemi. Quindi ci vuole ancora un po' di tempo. L'investimento che facciamo è un investimento di 813 mila euro, di cui 500 mila euro a fondo perduto, col bando sport e periferie. Il resto invece lo mette il Comune, abbiamo acceso un piccolo mutuo. E quindi ecco, e darà una visione diversa e soprattutto un servizio differente, perché con la copertura la possiamo usare anche durante i mesi invernali. Certo. Allora, intanto le fanno i complimenti, anzi la ringraziano per aver iniziato i lavori a piaggio e per la fibra. E poi le chiedono anche, ha buone notizie per quanto riguarda la ditta Ferroni e il biodigestore che vogliono costruire a barchi? Naturalmente noi lotteremo per il nostro bellissimo e sano territorio. Al momento no, perché dal protocollo ancora non ci è arrivato niente in Comune. Quindi scadevano i termini il 10 di aprile, se non sbaglio, per la presentazione da parte loro di eventuali integrazioni, eccetera. Adesso aspettiamo. Se le hanno presentate a breve la provincia ci scriverà. E poi dopo, come già l'abbiamo detto e abbiamo parlato anche insieme con il comitato che ci abarchi, col presidente Biagioli che saluto e ringrazio che sicuramente ci seguirà, poi dopo faremo tutti i passi che servono. Sono contenta che lei è brevissimo, sindaco, perché ci stanno arrivando decine di messaggi e spero di poterli leggere tutti entro la fine della diretta. Buonasera, vorrei sapere quando verranno sistemati i giochi del parco di piaggio e la realizzazione della staccionata. La staccionata. Allora, questa breve è già stata commissionata, quindi dietro il comune c'è un piccolo parco e lì metteremo questa staccionata in legno, quindi da qui io penso a qualche poche, due o tre settimane dovremo farla. Per il sindaco a che punto sono i lavori della scuola di Monte Palazzino? Monte Palazzino stanno andando avanti, quindi i cantiere stanno andando avanti e progredendo perché a settembre quella scuola verrà, dobbiamo assolutamente, l'apriremo. alla fruizione dei nostri alunni, quindi stanno andando avanti. Poi adesso ci sono rimasti, finiti questo stralcio, ci è rimasto ancora ulteriori attività da fare, quindi la tenteggiatura della palestra esterna ma non ci darà problemi, il parquet della palestra e altre piccole attività che dobbiamo fare. Allora, a che punto sono le indagini per scoprire i vandali che hanno deturpato le scuole medie? Ci sono delle novità? Questa è una bella domanda. Anche poi le chiedono anche, non si sono accorti della recinzione della scuola che è stata abbattuta? Quale? Sempre quella di Monte Palazzino? C'è un'apertura sulla recinzione. Allora lì quel buco è da tanto tempo che c'è, io mi ricordo già... Quindi non è recente? No, non è recente, probabilmente da... non dico da quando andavo a scuola io, ma forse da un po' c'è sempre stato. E lì sorrido perché fatica, non lo so se veramente si riuscirà a capire chi è stato il colpevole. Io spero che se ci sono i colpevoli e ci seguono si devono vergognare veramente di quello che hanno fatto. Lì perché non ci sono telecamere ancora, quindi... No, le telecamere non ci sono, abbiamo lì vicino le telecamere che sono elettori targhe, quindi non riescono a capire se qualcuno entra o qualcuno è uscito, quindi è un po' fatica. Ma però diciamo che questo è un po' un problema che i nostri giovani hanno tanto, perché oggi vedevo di serrungherina, tempo fa nel muro vicino del castello di Barchi hanno scritto ti amo Elena con la bomboletta. Ah ecco, quindi si divertono in un modo poco educato. Per il rispetto anche della cosa pubblica. Soprattutto la cosa pubblica è tutta una serie di questioni. Adesso sindaco andiamo a toccare un argomento che ha suscitato qualche mal di pancia ultimamente. Sono una persona ignorante, ma potete spiegarmi perché il bellissimo epoggio di Piaggio verrà tolto all'associazione ProArt dopo aver dimostrato più di ogni altra associazione e proloco di avere a bene il sito, facendo appello più volte al comune per aiutare a preservarlo, nonché amore, scrivono per la cultura e l'arte che lo hanno aiutato a farsi conoscere, ammirare anche da persone che vengono da lontano. Per cercare di spiegare la situazione anche a chi non è residente del nostro comune, che non conosce l'ipogeo, intanto cominciamo a guardare qualche immagine. Che cosa è successo? Lei qualche settimana fa ha annunciato di affidare questa gestione dell'ipogeo alla proloco. Quindi è nato poi un botte risposta, ma in realtà prima dobbiamo spiegare chi è la ProArt e chi è la proloco, perché svolgono entrambe le associazioni delle funzioni molto importanti nel vostro comune, anche di promozione appunto della cultura. Quindi non è che una esclude l'altra o che ci sia competizione tra le due, mi pare, però mi dica lei. Tra associazioni di qualsiasi genere, all'interno specialmente di un comune come il nostro, la competizione è un po' una barzelletta, perché tutte fanno promozione del territorio, chi della cultura, chi del turismo, eccetera. Di solito e generalmente le proloco nascono proprio per questo, per promuovere il turismo, per promuovere i beni materiali e immateriali. E in un contesto un po' più ampio, perché già noi dell'anno scorso, abbiamo cominciato a ragionare con tutte le proloco del nostro comune, le quattro proloco, quindi Barchi, Orciano, Piaggio e San Giorgio, per creare un coordinamento e una rete in cui gestire un po' tutte queste strutture. Perché, come ho avuto modo di dire, quando si fa gestione e soprattutto si promuove, va promosso tutta la rete che noi abbiamo. Quindi ogni singola bene, materiale o immateriale, diventa un attrattore per portare qualcuno all'interno del territorio. Quindi qualcuno viene nell'ipogeo e poi dopo da lì le guide lo porteranno a visitare anche altro. E l'amministrazione ha investito molto, perché voi pensate che Terre Roveresche è prima nell'itinerario archeologico, con Confcommercio, e poi nell'itinerario delle bellezze. E di nuovo la confermate, quindi lì abbiamo investito diverse decine di migliaia di euro per promuovere non solo questo sito, ma tutte quelle che sono le opere del nostro territorio. Terre di Pinte, insomma, le iniziative sono... Terre di Pinte, poi questo è un altro passaggio. Ringrazio Grassi ci segue, perché ha fatto un'opera monumentale, per chi passa a Cervara vede l'opera che ha fatto a Gra. E quindi questo fa parte di un contesto molto più ampio. Quindi non è che noi prendiamo, facciamo, togliamo. Fa parte di un percorso diverso, appunto. Anche perché i beni noi gestiamo, l'amministrazione in questo caso, poi il prossimo anno ci sono le elezioni, ci sarà sicuramente qualcun'altro, qualche altra amministrazione, eccetera, però gestisce per conto della popolazione, perché il bene è pubblico. Comunque adesso si ricandiderà così, giusto per farlo sapere anche ai cittadini. Venendo poi avremo tempo e modo, insomma, di parlare anche di elezioni comunali. Venendo da Saliberio, direzione Montebello, c'è un incrocio molto pericoloso, perché le macchine che devono svoltare a sinistra per Montebello non hanno visuale di chi arriva da schede. Sarebbe possibile mettere uno specchio? Sì, adesso di preciso, non so se siamo sulla provinciale o siamo sulla comunale, eccetera, però se l'ascoltatore che ci segue ci può anche mandare un'email con una foto, vediamo meglio, vediamo di intervenire. Se è competenza nostra non c'è nessun problema. Anche se non c'è rimasto tanto per la fine della scuola, si riuscirà ad attivare il bus navetta per i ragazzi che vanno a scuola a Senigallia? Ecco, come diceva prima, il problema del trasporto... Questo è un grande problema, che noi prima della prima ondata del Covid avevamo attivato un servizio, adesso domani ho proprio un incontro, perché l'idea non solo di riattivare questo servizio, ma anche attivare un grande progetto, che ne abbiamo parlato qualche anno fa, è quello di creare una sorta di circuito interno per rendere più collegabili le nostre frazioni, non solo con, tra virgolette, i centri, ma anche con le linee dove passano maggiormente autobus, eccetera. Si farà la festa a San Pasquale e se sì, come si svolgerà? Anche qui, insomma, un po' un problema, perché dobbiamo intanto capire l'andamento dei contagi, quello che succederà nei prossimi mesi o comunque si potrà svolgere in una modalità diversa via telematica, non so. La telematica? Queste sono feste che si fanno in presenza oppure non si fanno. Però io penso, oggi ho incontrato proprio il parroco, di San Giorgio e Piagge, Don Giacomo, Monsignor Giacomo Mura, abbiamo fatto una chiacchierata, perché poi giovedì sera ci sarà proprio una riunione per organizzarla. Sicuramente la messa ci sarà, si rispetterà le prescrizioni del Covid. Quindi non si farà in streaming, quella è in presenza. No, no, quella si fa in presenza di sicuro. Sicuramente si potrà vedere sul canale Facebook della parrocchia, questo è chiaro. Adesso stiamo ragionando per capire come fare, se fare la processione. Probabilmente è una modalità diversa, ci stiamo ragionando perché è importante. A parte che è una festa molto sentita e in più è il patrono del comune. Certo. Il campo da tennis di San Giorgio avete intenzione di sistemarlo, le chiedono? Sì, è previsto anche quello, la sistemazione, perché mano a mano stiamo toccando un po' tutti questi impianti, anche più piccoli, ma per dare insomma una decenza, una dignità, perché poi adesso col Covid il fatto dell'attività aria aperta chiaramente è maggiormente incentivabile da incentivare. Ci stanno mandando delle foto anche di processionari prima di piaggio venendo da San Giorgio. questa sia la via pubblica anche alla provincia. La provincia l'ho già segnalata, spero che intervengano, perché all'interno del comune interviene giustamente il comune, però non è che possiamo andare a sostituirci alla provincia. Vorrebbero sapere anche tra quando tornerà a funzionare lo scarico della fontana dell'acqua nel cimitero di San Giorgio, dato che è più di un mese che è intasato. Adesso manderemo l'idraulico. Io ne so adesso, probabilmente la persona che dice avrà avvertito anche l'ufficio tecnico. Spero, se no domani l'ho avverto io. Chiedono per la frana campo sportivo Barchi e spartitraffico per Vergineto. Lì siamo sempre su due tratti che appunto siamo su due tratti di provinciale. Per quanto riguarda il campo sportivo di Barchi, intanto il comune ha fatto un passaggio, ha chiesto alla regione Marche per poter appunto accedere in maniera più significativa e decisa all'aggravamento di quella frana, perché lì siamo su una frana che oggi è classificata pericolosità 2 e noi la porteremo, abbiamo chiesto di portarla pericolosità 3. Questo ci aiuta ad accedere maggiormente ai finanziamenti. Per quanto riguarda lo spartitraffico, che va verso Vergineto, lì ci stiamo attivando, non solo il comune di Terre Roveresche, ma insieme anche al vicino comune di Sant'Ippolito per sollecitare il più possibile la provincia di intervenire. Non a caso, adesso lo dico qua, ma l'ho già anticipato in una delle mie dirette, la nostra idea anche di altri sindaci, ma principalmente la mia e del sindaco di Sant'Ippolito, è di chiedere negli ultimi 10 anni quanti soldi sono stati spesi nelle varie aree della provincia e poter un po' riequilibrare le zone in cui si è speso. Perché avete qualche sospetto. Qualche sospetto, se fate un giro, perché noi parliamo sempre di turismo, tanto tempo fa c'era, 10 anni fa, la provincia bella, ti ricordi Simona? Ecco, la provincia è anche bella dal punto di vista ambientale, dei monumenti, abbiamo lì tutto quello che vogliamo, però il problema è che le infrastrutture, se ne è parlata anche il convegno, fanno, posso usare il tè, fanno schifo. Per quello si chiamano un po' la cenerentola delle Marche anche per quanto riguarda le infrastrutture. Sì, ma non solo, l'entroterra, io per venire giù stasera, la strada con le pozzanghere d'acqua comincia a essere pericolosa, ma andiamo di là al versante che collega Terre Roveresche con Monteporti, uguale, abbiamo una provinciale che forse è stata un po' trascurata, quindi sarebbe opportuno un po' riequilibrare. Stessa cosa, dicasi per Virginetto e Sant'Ippolito, quindi sarebbe un po' da rivedere queste cose. Quindi è solo un'informazione, chiediamo, poi qualcuno ci risponderà. Poi torneremo a parlare anche di asfalti, di cimiteri, insomma abbiamo ancora tanti messaggi per lei, ma ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Bene, bentornati in diretta, siamo insieme al sindaco Antonio Sebastianelli, dunque parlavamo di asfalti, le chiedono sia un po' di sistemazione a Piagge e poi anche la strada Cerbarese che va dall'incrocio per Cerasa fino al ponte che passa sul Metauro. Intanto, sono di competenza del comune? Sono di competenza, qui stiamo parlando di strade provinciali, dove noi possiamo sollecitare la provincia il più possibile, ma l'asfalto tocca loro. Ok, andiamo avanti. Il cimitero di Montebello ha bisogno di lavori? Alcune lapidi rischiano di cadere un po' di attenzione, non guasterebbe? Allora, il cimitero di Montebello, la signora o il signore chi scrive, chi ci ascolta, probabilmente si riferisce alla parte, quella più vecchia del cimitero e lì probabilmente dovremmo fare un altro tipo di intervento. Non è solo la lapide che si stacca, ma probabilmente dovremmo intervenire con un consolidamento. Le chiedono anche quante multe hanno elevato i vigili urbani, perché secondo qualcuno, insomma, le starebbero facendo un po' poche. Non sono tante, questo è vero. Noi non siamo un comune che chiude il bilancio con le multe, assolutamente. Non sono tante, specialmente quelle del codice della strada. Noi di solito... Sono bravi cittadini o sono clementi i vigili? Beh, bravi cittadini e clementi i vigili, ultimamente poi con la pandemia, non è che l'ultimo anno sicuramente sono aumentate, però diciamo un po' e un po'. In relazione alle limitazioni vigenti atto del contenimento Covid-19, il Comune di Terra Roveresca, quanti abitanti conta esattamente? Le chiedono questa curiosità. Siamo sopra 5.000 abitanti, quindi non ci si può spostare. È un po' surda questa norma. Noi abbiamo chiesto anche un chiarimento in prefettura e che poi ha scritto al Ministero. Anche lì le solite risposte da burocrati, ma di fatto noi teoricamente non possiamo spostarci nel Comune a fianco perché siamo sopra i 5.000 abitanti, però per esempio chi sta a Orciano non può andare a Mondaio, ma chi sta a Mondaio può venire a Orciano. È un po' surda questa cosa, però. Le leggi sono queste. È urgente ripristinare il Lago di Barchi. Sì, lo so. È un'attrazione unica. Lo so, è un'occasione unica. Adesso infatti noi ci stiamo preparando perché con le risorse del Recovery Fund che sono incentrate maggiormente sulla transizione ecologica e sulla diminuzione del Digital Divide, il Lago di Barchi è una delle nostre priorità. Siamo riusciti, grazie e ringrazio il Consorzio di Bonifica perché ha avuto questa attenzione a fare un accordo. Abbiamo preso il Lago in diritto di superficie per 99 anni rinnovabili, quindi questo ci permette di fare in maniera significativa il progetto per il recupero. Quindi partirà. Non sarà un iter cortissimo perché comunque dobbiamo fare una valutazione di impatto ambientale. Non è che andiamo giù, disboschiamo e facciamo. Questo è chiaro. Però abbiamo iniziato. Ringrazio appunto il Consorzio di Bonifica, Presidente Netti e Paride Prussiani che ci hanno aiutato in questo percorso. Parliamo di Lampioni. Le chiedono quando verrà installato quello alla fine di Via Palazzo e poi a Schieppe c'è un lampione ci dicono un uovo e tempo fa ci hanno sbattuto. Ci sono intenzioni che venga cambiato? C'è un lampione sicuramente quello vicino al Tris, alla discoteca, che è stato, ci hanno sbattuto e quindi si è un po' piegate e quindi lì metteremo un palo nuovo. Questo lo so. L'altra invece, l'altra era di Via Palazzo. Lì forse più di uno ne serviranno. Continuano a scriverci informazioni sull'illuminazione, ad esempio Via Montepietro e Nevoletta un'altra anche in un altro messaggio. Vogliamo un attimino Sindaco, anche perché si fosse sintonizzato nel corso della puntata, riepilogare un po' quello che succederà appunto per l'illuminazione pubblica. Dicevo, l'illuminazione pubblica toccheremo tutto il territorio comunale, a parte San Giorgio, l'ex comune di San Giorgio dove lì il 90% dei lavori sono stati fatti precedentemente con la precedente amministrazione. Però tutto il territorio verrà toccato. Come dicevo, avremo due tipologie di interventi. In alcuni punti cambieremo solo il corpo illuminante perché sia la linea che il palo è stato fatto recentemente, quindi anche dieci anni fa e quindi ancora in buono stato. Invece in altri posti, in altri contesti dovremo fare la linea nuova e i pali nuovi, i plinti nuovi come è successo a Barchi. Quindi poi arriveremo anche nelle parti, diciamo, delle case sparse del nostro territorio. In alcuni punti, come stiamo già facendo e abbiamo già fatto, installeremo dei lampioni alimentati a energia solare. Quando sarà riparato il parapetto del camminamento tra Orciano e Mondavio? Il parapetto spero presto perché lì abbiamo una lunga discussione con l'assicurazione perché lì ci fu un incidente, andò a sbattere la macchina e quindi lì con le assicurazioni è sempre una lotta perché loro vogliono pagare sempre il meno possibile e chiaramente non è che possiamo sempre far passare sotto la cosa. Quindi mi immagino che c'è il disagio perché l'ultimo pezzo del parapetto non c'è, però ci adoperiamo per farlo quanto prima. Per il discorso dell'ipogeo le dicono che è sempre un po' troppo generico e non va nello specifico perché non viene assegnata invece alla ProArt? Rispondo come risposto. Un'amministrazione parla per atti. Quindi noi abbiamo fatto un percorso come dicevo a breve questo percorso in cui formalizzeremo l'atto di affidamento dell'ipogeo e poi spero anche di tanti altri nostri beni in questo caso la ProLoco di Piaggio. La fibra a Barchi arriverà mai? La fibra a Barchi quest'anno perché il progetto prevedeva il progetto della regione ricordiamoci bene con Open File prevedeva Primo Orciano ed è stato fatto e poi a seguire Barchi, Piaggio e San Giorgio. Il Covid ha rallentato tutto però quest'anno dovrebbe essere perché in alcune parti del municipio sono già iniziati mi sembra Piagge quest'anno è l'anno di Piagge, San Giorgio e Barchi. Allora le dicono intanto sempre per il Lampione alla fine di Via Palazzo le specificano che ne manca soltanto uno in direzione Monte Maggiore e poi quella Via Palazzo per caratteristica pardon perché Via Palazzo a Piagge ci sono anche un'altra via Palazzo in un'altra parte quindi ecco so che lì ne manca uno infatti esatto e quindi anche quello verrà quello deve essere messo sì i nostri figli vanno via dall'entroterra per spostarsi verso la città e anche l'economia si ferma che cosa si può fare per evitare in futuro che l'entroterra si spopoli ci state pensando? Noi abbiamo attivato da quando ci siamo insediati tutta una serie di misure a parte il bonus per i nuovi nati tutta una serie di agevolazioni per chi porta la residenza eccetera adesso io spero che con questa pandemia di tante cose negative che ha portato tra cui vabbè non lo ripeto i tanti morti ospedali pieni però dall'altra parte porta anche una riscoperta di quella che invece è una una società e una cultura un po' più lenta un po' più tranquilla e infatti tante persone stanno piano piano iniziando a tornare e poi l'altro aspetto su cui stiamo cercando di investire insieme a tanti ad alcuni imprenditori che hanno iniziato proprio una perda dell'attività è appunto proprio il turismo lento che c'è quindi il bike eccetera ok quello sarà un volano per il futuro la riscoperta e poi anche la riscoperta di attività come quella dell'agricoltore perché tanti ragazzi si stanno avvicinando anche a questo poi dicevamo anche prima di andare in diretta che appunto diverse attività stanno aprendo quindi si mantiene vivo l'abbiamo inaugurata poco prima di Pasqua la pizzeria davanti dove c'era il bar Roby a Piagge davanti alla chiesa lungo la strada e in un momento storico come questo insomma è un bel segnale Elisabetta e Fiorenza sono state veramente caparbi e testarli a portare avanti il loro progetto il signor Bartoli vuole sapere se i lampioni con pannelli solari che non vanno vengono sostituiti a schieppere devo dire la verità sindaco dalle nostre parti arrivano centinaia di messaggi per le buche da voi per i lampioni il signor Bartoli che saluto dovrebbe essere Bruno che ci scrive da schieppe sì quello va cambiato è di vecchia tra virgolette generazione questi nuovi vanno molto meglio San Bartolo vicino a Virgineto non hanno servizi ci sono anche molti anziani bisognerebbe fare qualcosa per loro infatti si parlava proprio prima prima della pubblicità appunto dobbiamo domani un incontro perché dobbiamo cercare di attivare questo servizio una specie di bus navetta interno che aiuta a collegare maggiormente le nostre frazioni con luoghi in cui già c'è una frequenza degli autobus dei tram maggiore e poi lì su San Bartolo c'è un progetto ringrazio anche il nostro il parroco adesso Don Mirco perché lì a San Bartolo in una struttura della parrocchia grazie al coinvolgimento dell'articolo 32 verrà attivato un servizio nuovo avete fatto un bel lavoro a Fornace come camminamento all'inizio di parchi si può sognare che cosa avete fatto lì sindaco è nuovo questo camminamento sembra che ne abbiamo parlato anche la volta scorsa però è stato un progetto importante la nuova piazza dove appunto c'era la Fornace con il camino che ricorda appunto questa impresa storica che ha dato lavoro a tantissime famiglie non solo di Orciano ma di tutti i comuni di Mitrofi tutto il marciapiede che dovremo terminare perché manca un ultimo pezzetto in cima per collegarlo poi con la strada che va a Mondavio che va al centro di Orciano e l'idea io lo so l'idea è quella di continuare in questo percorso con un lungo marciapiede che poi collega anche Barchi anche il museo all'aperto sarà della Proloco il museo all'aperto è del l'ha creato la ProArt l'associazione ProArt ed è all'interno di un'area privata che non è pubblica quindi poi dopo lì sarà un problema dove l'amministrazione non entra a Piaggio nel centro storico le dicono ma anche nelle frazioni di Barchi ci sono diversi edifici in stato di degrado all'interno del centro abitato quando interverrà l'amministrazione nei confronti dei proprietari che non sono residenti e non sentono questo problema allora noi per quello che riguarda gli immobili più faticenti continuamente facciamo l'aggiornamento di una mappatura che noi abbiamo e poi siamo stati probabilmente i primi in tutta Italia noi abbiamo un regolamento specifico dove appunto un articolo della Costituzione del articolo 42 ci dice che se i beni non assicurano la funzione sociale ritornano nelle mani del popolo in poche parole quindi in questo caso del comune proprio stamattina sul Carlino leggevo di una frase di Papa Francesco che ha detto che i privati che condividono i propri beni non è comunismo perché qualcuno tempo fa quando approvammo questo regolamento ci ha tacciato voi espropriate voi fate noi facciamo solo cerchiamo di mettere in sicurezza e di dare decoro alla nostra comunità e quindi adesso il piano verrà aggiornato di nuovo e poi altre ordinanze partiranno allora Silvaco finiamo di vedere qualche foto che abbiamo e questi qui sono gli asfalti quindi come diceva appunto qui siamo a Barti siamo via Raffaneto qui un tratto d'asfalto che dobbiamo fare su questa spianata perché poi comunque sia ogni volta che c'è pioggia è sempre un casino quindi è siccome anche abbastanza trafficata e quindi questa verrà è un lavoro di asfaltatura che andrà poi tanti tanti altri piccoli tratti sparsi in qua e là nel territorio poi di fatto noi abbiamo sempre ci siamo sempre adoperati per avere una efficienza e una manutenzione delle strade c'è un signore che sta verso Montebella questo è il sindaco delle strade perché noi ci teniamo molto su questo perché appunto l'infrastruttura è essenziale per il turismo e anche per i spostamenti per chi ci abita e per far sì che qualcuno venga da noi volevo sapere le agevolazioni che ci sono per i nuovi residenti a Terre Roveresche i nuovi residenti noi abbiamo la Tari per 5 anni non si paga chi porta la residenza a Terre Roveresche oppure chi apre un'attività a Terre Roveresche non paga la Tari per 5 anni e poi dopo in più abbiamo un contributo adesso quest'anno lo rinnoveremo eccetera che va per chi acquista o ristruttura la prima casa d'abitazione quindi è un piccolo bonus che abbiamo la potese di Orciano quando verrà attivata? la potese di Orciano io sono in contatto con l'Asur perché l'azienda l'associazione che dovrà gestire l'ambulanza è stata già trovata il problema è che mancano gli infermieri e l'infermiere siccome lì c'è un infermiere H24 lo mette per fuori deve essere dipendente dell'Asur e quindi su questo c'è qualche ritardo perché sappiamo tutti quello che sta succedendo quindi questo è un po' il ritardo io con il dottor Magnoni mi sento spesso e quindi è in contatto spero di arrivare cioè gli è stato fatto un passo avanti perché è stata deliberata e quindi questo territorio il nostro territorio era dieci anni che aspettava l'ambulanza ci siamo riusciti e poi dopo partiranno anche altri servizi dunque abbiamo altre foto che sono quelle che si riferiscono alla scuola questa è la scuola San Giorgio che ospiterà l'elementare scusate se uso la classificazione tradizionale quindi l'elementare le medie di San Giorgio e Piaggia la parte esterna è finita adesso si sono spostati all'interno per fare gli impianti e i rivestimenti ci dicono informate il sindaco che il museo c'è l'aperto di Piaggia in una strada pubblica il sindaco ha partecipato sempre alle nostre manifestazioni e inaugurazioni di opere quindi insomma la strada è pubblica la strada è pubblica ma l'area in cui c'è il museo c'è l'aperto perché sì chi scrive è vero che lungo la strada ci sono delle opere però la parte preponderante con i murali si è all'interno di un'area privata che non è notta è il comune quindi su quella noi non entriamo è chiaro che la strada è pubblica è una strada comunale quindi sì abbiamo un altro messaggio per lei ma questa volta nel telefono della redazione grazie all'amministrazione comunale al sindaco per aver lavorato duramente sulla riqualificazione dei nostri territori che che se ne dica la fusione dei quattro comuni ha portato ad un miglioramento delle condizioni del territorio dei servizi della vita dei cittadini anche lei insomma è d'accordo con il miglioramento c'è stato perché messi insieme quattro amministrazioni tutto diventa più efficiente eccetera ancora c'è tanto da lavorare perché non è finito poi tanti altri progetti anche di più ampio respiro che dobbiamo portare avanti sindaco siamo quasi in chiusura intanto vorrei commentare con lei quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane dicevamo all'inizio di questa diretta dell'importanza delle vaccinazioni il piano che sta proseguendo ieri il record di 11.000 somministrazioni nella nostra regione un punto vaccinale che potrebbe o meglio sarebbe bene che ci fosse anche nel vostro territorio sarebbe auspicabile sarebbe auspicabile abbiamo già scritto noi mettiamo a disposizione strutture tutto il personale amministrativo che serve già i medici di medicina generale per bocca del loro coordinatore della zona insomma di là verso il Cesano ha dato la disponibilità insieme anche ad alcuni farmacisti delle nostre farmacie quindi noi ci siamo non ci sottraiamo al nostro impegno e speriamo anche che nelle prossime settimane si possa riparlare di riaperture e tornare piano piano graduali però sappiamo che se si vaccina in maniera masseccia si può tenere perché basta guardare Israele basta guardare l'Inghilterra gli ultimi messaggi al volo è un'utopia pensare a un marciapiede che possa collegare tutti i municipi di terre roveresche da barchi a piagge un'utopia non la vedrei perché già in parte tanti tratti di marciapiede sono stati fatti non è un'utopia assolutamente servirà tempo non è che domattina li troviamo fatti però fondi e quant'altro asfalti nelle strade bianche e questi vabbè più o meno degli asfalti abbiamo detto insomma abbiamo fatto vedere le foto eccetera il problema della fornace di Orciano invece è il problema che era della parte anche lì siamo su un privato ci sono le macerie che devono essere smaltite c'è stato tempo fa lo sappiamo tutti inizio di quest'anno questa operazione dei Nass eccetera vabbè su quell'area sequestrata ipotesi di discarica abusiva che di fatto sono macerie inerti e speriamo che avvenga il dissequestro perché poi finché non non c'è il dissequestro chi è lì dentro non può iniziare poi io spero che non dobbiamo che non deve perché poi dopo potrebbe capitare anche quello se qualcuno non non ottempera il privato poi dopo il pubblico che deve sostituirsi al privato speriamo di non arrivare lì dunque sindaco lei deve sapere che per fortuna questo non è un programma di nicchia nel senso che viene guardato anche da altri esatto altri residenti di altri comuni eccetera e vorrei chiudere con questo messaggio vogliamo sebastianelli accolli al metauro quindi insomma vorrebbero che lei fosse sindaco anche nel loro nel loro comune io la ringrazio per essere stato e ci rincontreremo nei nostri studi nei prossimi mesi sicuramente anche per i servizi all'interno del nostro telegiornale grazie e buona serata grazie a voi grazie a tutti e buona serata vorrei ringraziare anche cristiana guerra e riccardo sora in regia tra poco andrà in onda il telegiornale di mezzasera e poi dopo domani mattina la rassegna stampa alle 7 con il direttore marco ferri buona serata a tutti grazie a tutti